Anticipazioni Beautiful, venerdì 2 agosto 2019 E' il turno di Liam. Gli viene chiesto di confermare se l'assenza del padre durante l'infanzia è stata dovuta a una scelta della madre, ma un'inadempienza di lui. Liam spiega che il tutto è avvenuto per volontà della defunta Kelly, sua madre. Poi racconta al giudice, nei dettagli come ha conosciuto Bill, di come il rapporto, dall'inizio, andava a gonfie vele, per poi continuare tra numerosi alti e bassi. Dice che non hanno più un dialogo dopo che ha scoperto che è andato a letto con Steffi, sua moglie, e soprattutto dopo che ha messo in giro false voci, facendo credere che avessero una relazione estraconiugale. Prima di uscire dalla stanza però, Liam stupisce tutti. Spiega che al Magnate deve essere concessa una seconda possibilità con Will. Più volte, infatti, ha dimostrato di amarlo. La prossima ad essere interrogata è Katie. Mostra al giudice il calendario delle visite di quell'anno. L'ex marito è stato praticamente assente. Aggiunge che hanno provato con la custodia congiunta, ma Bill non ha mai rispettato gli impegni presi. Lo ha perdonato troppe volte, adesso basta. Carter interviene spiegando che Bill ha presentato al giudice le carte di quando lei credeva di non poter avere figli. Katie conferma e aggiunge che dopo l'operazione al cuore, i medici le avevano detto che sarebbe stata altamente improbabile una gravidanza. Così non è stato. Bill in quei momenti ha pregato affinché abortisse, preoccupato per il suo precario stato di salute. Ma lei desiderava fortemente diventare mamma. Ribadisce che non vuole far uscire Bill dalla vita di Will, solo decidere e programmare le visite. Presto Will sarà un uomo e vuole essere certa che sia capace di amare e di poter accettare l'amore dei suoi cari. Per questo ha scelto di unirsi a una brava persona come Thorne. Wyatt nel corridoio chiede a Brooke se Bill rischia di perdere davvero il suo piccino. Lei crede di sì e diventa nervosa quando pensa a ciò che ha combinato la sorella. Wyatt gli fa presente che anche Queen lo ha fatto con lui. Può capire la situazione. Brooke si preoccupa ancora di più quando realizza, che è un bel giorno, quando sarà ormai troppo tardi, Katie potrebbe aprire gli occhi e pentirsene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.